Ciao, benvenuto o benvenuta nel video di oggi. Parlare bene per ripetere in modo efficace. Oggi voglio farti capire come dovresti sviluppare la tua capacità di esporre nel modo corretto ciò che stai studiando, ciò che hai studiato, quindi il contenuto delle varie materie e in questo modo cerchiamo di capire come parlare bene, quindi riuscire ad esprimersi nel modo corretto, possa aiutarti a ripetere sia a casa ma soprattutto durante l'esame in modo efficace e quindi cercare di accaparrarti i voti migliori in assoluto. Quindi voglio innanzitutto partire dicendoti che dovresti esercitarti anche al di fuori dell'ambito universitario, quindi parlare bene dovrebbe essere qualcosa che deve un po' rappresentare una tua qualità, una tua abilità, che puoi ovviamente giostrare, per così dire, attivare o disattivare in base al caso, quindi non dobbiamo sempre stare attenti a come parliamo, ci sono delle situazioni molto informali quando siamo tra amici o in famiglia in cui ci interessa relativamente parlare bene, però ci sono delle situazioni nell'ambito universitario ma anche al di fuori, basta pensare ai casi per esempio di public speaking, se ti capita o ti è mai capitato, o hai un progetto di sviluppare delle buone abilità per il public speaking, quindi dovresti esercitarti a prescindere. Ora, su cosa devi concentrarti per studiare nel modo più efficace il modo appunto di parlare bene? Ti faccio vedere questo grafico che ho preparato per te, attraverso cui voglio farti capire quali sono i tre elementi fondamentali per parlare bene e quindi di conseguenza ripetere in modo efficace a livello universitario e come abbiamo detto non solo. Allora, ci sono tre elementi, come vedi li ho realizzati in modo tale che rappresentano tre cerchi che si intersecano in un certo e qual modo l'uno con l'altro. Infatti il primo, quello blu, rappresenta il contenuto. Questo è ciò che devi studiare, quindi con le frecce ho cercato anche di rendere anche più chiaro questo aspetto. Il contenuto è tutto quello che studi, a prescindere dalla tecnica che utilizzi. Quindi è fondamentale riuscire a studiare e quindi comprendere quello che è poi il contenuto anche delle domande del professore, del docente o anche della professoressa e di conseguenza anche il contenuto delle risposte. Quindi questo è il che cosa devi essere in grado di esporre. Ovviamente non è importante solo cosa dici ma anche come lo dici. E infatti il cerchio giallo si riferisce alla forma. Sicuramente ti sarà capitato sentire dire molte volte che oltre al contenuto è importante anche la forma e quindi oltre a ciò che dici, come dici qualcosa è fondamentale e in questo caso ci interessa esporre in modo adeguato. Cioè esporre in modo tale che ciò che stai dicendo lo dici nel modo corretto, in modo soprattutto adeguato al contesto di riferimento. Perché se stai studiando e quindi devi sostenere l'esame magari davanti ad un docente che oltre alla carriera di docente, ad esempio se stai studiando medicina e chirurgia anche un medico, devi utilizzare una terminologia che rappresenta quella più adeguata per il contesto in cui ti trovi. Motivo per cui non puoi abbozzare o provare ad indovinare quando utilizzi dei termini. Quando c'è bisogno di essere tecnici devi essere tecnico e quindi devi essere in grado di parlare nel modo corretto per quel contesto. sia questo contesto più formale ovviamente è altrettanto adeguato e ritorniamo un po' a quello che abbiamo detto prima quando dicevamo che non è sempre indispensabile parlare bene. Anche in quel caso, paradossalmente, stiamo comunque utilizzando la forma corretta per quel contesto. Quindi questo è altrettanto importante per cui insieme al contenuto deve sempre camminare la forma ma non sono due fattori isolati, entrano sempre in relazione con un terzo fattore cioè la realizzazione. Non so se ti è mai capitato nella tua carriera universitaria di studiare questi due concetti oppure non ti è mai capitato e quindi lo vediamo insieme adesso per la prima volta oltre alla tua competenza da un punto di vista linguistico cioè la tua capacità di studiare come si deve parlare nel modo migliore deve essere presente anche la realizzazione. Quindi devi essere anche in grado di eseguire, non solo essere in grado di sapere cosa dire ma come dirlo ma passare all'azione sostanzialmente. Quindi questa è un po' la differenza che c'è tra riempirsi di teoria e non fare mai pratica o riempirsi di nozioni e non passare mai alla fase della prassi in cui ti metti in gioco sostanzialmente. E quindi è inutile che tu continui a studiare il modo migliore per esprimersi o impari a memoria tantissimi termini se poi ad esempio non le sai utilizzare nel momento giusto nel contesto giusto o magari utilizzi troppi tecnicismi e quindi quando esponi, esponi in modo troppo meccanico che da un lato sì, da un punto di vista di contenuto e forma è giusto ma non riesci a coinvolgere bene chi ti sta davanti. E quindi anche questo aspetto insieme agli altri due c'è l'aspetto della realizzazione è fondamentale e ti voglio lasciare con uno step in più a partire proprio dall'idea della realizzazione e come questa è legata al contenuto e alla forma. La realizzazione è possibile esercitarla, quindi come c'è scritto qui fondamentale è l'esercizio per essere in grado di realizzare nel modo corretto la tua competenza comunicativa in senso ampio e quindi per riuscire a parlare bene, per essere ancora più schietti e quindi questo avviene soprattutto attraverso la ripetizione in un doppio senso. Da un lato devi essere in grado di esercitarti più e più volte quindi ripetere, proprio nel senso di fare la stessa cosa più e più volte e poi ripetizione anche nel senso di ripetere il materiale di quello che hai studiato. Quindi per parlare bene, per essere in grado di esporre devi innanzitutto riuscire ad articolare da un punto di vista linguistico bene il tuo pensiero e quindi in questo modo riuscirai a far incontrare questi tre cerchi e quindi a realizzare nella pratica proprio questa intersezione. Per cui se hai delle domande, dei dubbi o ti interessa qualche ambito specifico in cui vuoi sviluppare una certa competenza e quindi un particolare ambito rispetto al quale vuoi riuscire a parlare bene allora in questo caso fammi sapere nella sezione dei commenti o nella sezione privata, cioè puoi scrivermi via email e trovi tutte le informazioni che ti possono interessare nella descrizione del video. Per quello che riguarda il contenuto di oggi abbiamo finito qui ti ringrazio per l'attenzione che mi hai dedicato se sei interessata o interessato a rimanere aggiornato su tutti i video che escono comunque con cadenza giornaliera ti invito ad iscriverti al canale. In ogni caso ti ringrazio nuovamente e ti aspetto nel video che uscirà domani.